La polisportiva Santa Maria si laurea campione d'Italia di bici soccer under 18 scrivendo il proprio nome nell'albo dei vincitori della prima edizione dell'evento organizzato dal settore giovanile scolastico della FIGC. In finale a Ciro Marina la squadra del presidente Francesco Tavassi ha battuto 6 a 3 i siciliani dell'Iccarenze. A trascinare i giallorussi alla vittoria sono state le doppiette del capitano Morlando. Ventura e Sessa quest'ultimo autore di un gol anche con una bellissima rovesciata. Subiti i vantaggi i giallorussi hanno subito il pari dell'Iccarenze per poi andare sul 4 a 2 nel secondo tempo e fissare la parziale sul definitivo 6 a 3 nell'ultimo periodo. Il progetto bici soccer della FIGC che ha avviato affidando al settore giovanile e scolastico un grande futuro davanti a sé. E ai tecnici del settore giovanile scolastico il compito di promuovere il calcio su sabi in età giovanile con l'obiettivo di portare sempre più ragazzi e ragazze a scegliere il bici soccer come sport da praticare durante l'intera stagione sportiva e la polisportiva Santa Maria l'ha spostato subito vincendo prima il titolo regionale e poi quello nazionale.